Vuoi farti la tua squadra dei sogni su FIFA 20 e non sai come fare? Bene, passa su footloot.com, inserisci il codice JOKER e otterrai il 5% di crediti extra e il 10% sui loot dollars Trovate il link in descrizione Let's go! Pacca da 50.000, è un pacca di merda Ma iniziamo malissimo Iniziamo malissimo Iniziamo malissimo Non ci credo Ragazzi, due pacche, due cagate Un altro 81 E mi pacca da 50.000 Ok, si illumina, meno male, grazie E non è walkout Ovviamente ci dà Brasiliano Esterro sinistro E ci dà Costa Douglas Costa 84 Non è walkout Perché se manca quella acquolina ragazzi Belgio ATT Lukaku Lukaku Di nuovo Di nuovo Lukaku Questo se poi domani lo faranno tipo versione Gesù Cristo Io non lo troverò mai più Ma perché non mi dà un... Ma mi dà il giocatore della UEFA Mi dà neanche raro Mi dà l'82 e Munir Ok, si illumina Ok, si illumina Occhio Alex Oh Perché è viola? Perché è viola? Ma che cazzo di carta è? Son giù Ma che è? Si fa schifo Perché è viola? Ma mamma che ci chiede sto coso? Ero è si è scritto Ero è si è scritto Un trap Let's go Una finezza Messi Mbappé Non è neanche walkout Vado Simo Lo apro Non è neanche walkout Questo lo dedico a Joker Lo dedico a me stesso Grazie Gabriele Ok, si illumina C'è qualcosa Non è walkout Raga, non esistono i walkout Porca puttana Io lo uccido sto gioco Perché io strunzo ancora che... Perché? Non è walkout Brasiliano CoC Oscar Oscar Ma dai Lady Oscar FIFA dammi un fottutissimo Dogs Me dai Messi Me dai Mbappé Me dai tu madre Questo è un manco walkout Ma è cosa illumina Manco tu sia Quella grande pelata vacca Che sta sul cenestello Che sta ammassà Dei piatti in faccia Dei mortacci tua Guarda che pacchi di merda Ti sto pagando i pacchetti E non mi dai niente Ma non se va a fa così Guarda un vabbè L'occhiolino Fammelo su sto grande uccello Mi fa trova qualcosa Mbappé Guarda Mertens Per la capa Sarculo De Bruyne Che guarda Mertens Per la capa Sarculo Un Mbappé Gli ha messo al culo A Mertens Perché fa l'occhiolino Sergio Ramos Sta mannambacetto Sarà Sarà Di Sergio Ramos Senti quanto lo schiaffo Nelle palle Mai te rotti i coglioni Raga Io ve lo dico Se trovo Ronaldo lo scarto Oddio se sta alluminato Oddio se ha alluminato il pacchetto E' walk out No no Non mi fa così Te prego Oddio su Alex No E' portacci Tua madre Mi so Vede cavallo 88 In un pacchetto 7000 e 5 E poi ne manca da 50 milate Dal cazzo E ne manca da 35 milate Dal cazzo Ma come è possibile Bella Marco In casa Venerico Grazie mille Ma come è possibile Un pacchetto 7500 Di da questo E poi di apri pacche Di Dio Non ti da un cazzo Penso se dicevo Mi da walk out Lo scarto Io ho detto Se mi da Ronaldo Lo scartavo Cavallo 88 Che costa niente Ma nel pacchetto 7000 e 5 Adesso silenzio Tombale Un altro pacchetto Icona base Cioè me ne sono fatti Tipo 7 e 8 Non so quanti Non fatti nella vita mia Ti prego fifa Non mi ha dato un cazzo Nei togs Che ti qua Grazie per l'abbonamento Tanto agli uff93 Chi è che sta morendo Questo pure non è niente Quindi possiamo Madonna mia 3100 Ma quanti cazzo siamo Ok Oh Pacchetto buono Nella carta Nelle carte Ok niente Non è walk out Tedesco Tedesco C o c Osil 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 va bene Osil 84 Va benissimo In un pacchetto Osil A mia nonna Io me ne vado Dai Non guardare No Non guardare Non guardarlo Te prego Tedesco ATT Close Close 87 Va bene Dai Close 87 Close 87 Dai Una bella merda Raga Io mi sparo Io mi sparo Altro pacchetto Icona fatto Raga Porca miseria FIFA Se adesso non mi dà qualcosa di strong Mi do Intanto in un pacchetto di giocatori Tipo ci ha dato Che cazzo è una magnetta Ok intanto abbiamo questa qua Ci da Tadic 84 Ti prego Vai Lo sto aprendo Lo sto aprendo ragazzi Francese Persino Petit No Un segreto Ancora Ma non ha Puoi evitarmi Zidane Mortacci tua Costano Cioè costano 600.000 Non ho credit Raga Grazie a tutti